Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Clash Mini. E quest'oggi ragazzi andremo a potenziare di brutto il nuovo eroe che abbiamo visto nello scorso episodio di Clash Mini essere abbastanza forte. In particolar modo anche la strega è veramente fortissima, quest'oggi accantoneremo un attimino il signor pescatore perché volevo concentrarmi appunto su Wavemaster e la strega. E quindi ho preparato sto deck che non so in realtà quanto sia effettivamente buono per il Wavemaster e la strega ma ce se prova. Nel dubbio vi ricordo ovviamente un bel mi piace per supportare Clash Mini, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, il codice creatore non è ancora disponibile perché il gioco non è ancora stato lanciato globalmente. Speriamo che Supercell lo lanci il prima possibile e che lo lanci effettivamente perché ancora non si sa niente, però per adesso stanno continuando ad aggiornarlo quindi abbiamo delle buone aspettative. Ma detto questo andrei subito a potenziare il nostro carissimo Wavemaster, vediamo soprattutto fino a che livello possiamo potenziarlo, solo fino a livello 3 addirittura perché ce ne mancano solo 4 per portarlo a livello 4, fa ride sta cosa. Però purtroppo non ne posso shoppare altri nello shop perché non ne abbiamo più, l'abbiamo shoppato, mi sembra ieri, comunque ne avevo shoppati altri punti di energia di Wavemaster per questo siamo riusciti a portarlo al 3. E per andare a prendere questi punti di energia purtroppo dobbiamo arrivare alla soglia 17 che è abbastanza lontana, quindi per adesso ci dobbiamo accontentare così. Ma attenzione perché io vado a prendermi l'ultima abilità del Cavaliere ma soprattutto vado a prendermi nuovamente la Strega. Tra l'altro ragazzi io non so se l'avete notato ma abbiamo parecchio oro, io non so se l'avete notato ragazzi. Guardate l'oro che abbiamo e le gemme perché ho fatto una gran bella shoppatina, eh? Ho shoppato il pacco da 2.500 gemme e mi sono andato a prendere i 25.000 di oro. Quindi insomma stiamo shoppando, stiamo shoppando. Detto questo proviamo a switchare lo shop e attenzione perché abbiamo anche una seconda abilità della Strega e perché no mi andrei a prendere anche il Pescatore, la seconda abilità del Pescatore. Quindi magari dopo una partitina col Pescatore pure me la farei. Detto questo proviamolo, proviamolo un attimino questo deck. Per adesso ancora non sto facendo le rancate regà perché voglio un attimino prima capire effettivamente quanto possa essere competitivo Wavemaster. Ora regà io non l'ho provata sta nuova mappa, vi dico la verità, sta nuova mappa non l'ho ancora mai provata. Quindi cercherò di fare il possibile, sembra tipo una jump, un trampolino. Che cosa sta per succedere? Esattamente, l'avevo visto, l'avevo visto subito. No, il Gran Cavaliere va sulla strega! Speravo andasse sul Cavaliere! Maledizione! Oh, attenzione! Wavemaster! Dai che salviamo la strega! Dai che salviamo la strega! Tutti i scheletrini adesso addosso a loro! Eh, attenzione perché... Eh, guarda quanto è forte! Guarda quanto è forte lo Shield Maiden! Regalo Shield Maiden ha fatto fuori praticamente tutti da solo, ma il Wavemaster ragazzi! Il nostro nuovo eroe! Devastante! Devastante a livello 3! Non vedo l'ora di portarla al 4! Allora sì, a tutti gli effetti è una catapulta! E attenzione! Vediamo se ci capita subito! Sì, andiamo a potenziare immediatamente la strega! Andrei a potenziare anche il nostro signor Cavaliere! Facciamo una roba di questo tipo, va? Perché secondo me ora lui da lì lancerà di nuovo il Gran Cavaliere! Eccolo lì! Noi adesso... No, vieni indietro Wavemaster! Ok, perfetto! Però sapete che non lo so se stavolta riusciamo a salvarla? La strega? No, stavolta non riusciamo a salvare la strega, regà! Anche lui c'ha la strega ragazzi, eh! Attenzione! Anche lui c'ha la strega! Però lui non c'ha Wavemaster! Vediamo se ci risolve così la situazione Wavemaster! No, non credo ragazzi! E purtroppo stavolta ce la facciamo, eh! Attenzione! Eh, lo Shield Maiden c'ha ancora tantissima vita! Eh! Va bene! L'ha dato a noi il round ragazzi! Lo ha dato a noi! Ragazzi, io questa volta ovviamente sposterei tutti da quest'altro lato! Vediamo se riusciamo a potenziare la strega! Sì, regà! Per la prima volta la strega con la seconda abilità! Andiamo a mettere anche una guardia! Io metterei il Cavaliere qui per proteggere la situazione! E fare una cosa del genere! Vediamo! Vediamo! Non abbiamo un deck per cui sfruttare la catapulta, secondo me! Questa volta non lo fa nemmeno lui, eh! Questa volta neanche lui va a sfruttare la catapulta! Ragazzi, Wavemaster è fortissimo! Regà, ma gli scheletri sono ancora più grossi della strega? O ho visto male? No, no, mi sento ancora più grossi e più resistenti! L'ha rispammati, regà! Madonna, la seconda abilità! Ecco Wavemaster che entra all'azione! Non ha spammati altri, ragazzi! Ma che cosa sto vedendo? Eh, però lo Shield Maiden ha tantissima vita! Lo Shield Maiden ha tantissima vita! Ma abbiamo vinto grazie alla strega! Ragazzi, carriati dalla strega! Devastante, ragà, la strega! Ma veramente forte, 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 forte! Detto questo, però, ho la curiosità di andare a provare la seconda abilità anche del pescatore! Però, ovviamente, direi di andare un attimino a cambiare strategia! Perché, ovviamente, andando a mettere il pescatore ci serve anche qualcun altro che itti da lontano, che può essere l'arciere? Vediamo! Comunque, ragazzi, Wavemaster devastante! Ma cos'è la strega, signori? La strega è qualcosa di incredibile! Niente, non abbiamo di prima mano, purtroppo, il pescatore! Avrei voluto provarlo, vi dico la verità! Avrei voluto tanto provarlo, ma... Eh... Ci rifaremo nei prossimi round! Più che altro volevo provare la seconda abilità! Quello era l'obiettivo, soprattutto! Attenzione, anche lui ha l'arciere e ce l'ha già con un'abilità! Questo potrebbe essere un grosso problema per noi, eh! Soprattutto perché lui ha anche lo Shield Maiden! Ragazzi, lo Shield Maiden è tornato a bestia, proprio! Fortissimo lo Shield Maiden, ragazzi! Scudo per il nostro Cavaliere, però, attenzione! Eh, però, anche lui sta per sbloccare lo Shield con lo Shield Maiden! Attenzione, però! Attenzione, però! Perché il nostro Wavemaster se la porta a casa! O comunque, adesso tutte le partite che arrivano fino al conto alla rovescia, eh! Incredibile, ragazzi! Allora, abbiamo il Pescatore! Io, ragazzi, a questo punto andrei a togliere l'arciere e mi tengo il Pescatore con tutta una situazioncina del genere qui! Sì, raga, direi una cosa del genere! Tra l'altro abbiamo, appunto, già un'abilità del Fisherman! Vediamo un po' che cosa succede! Allontaniamo, anzi, lo Stregone, che forse è meglio! Vediamo un po' che succede! Mi tiro tutto! Mi tiro soltanto il Minatore, in realtà! Però, vabbè, è come se gli avessimo annullato una truppa, eh! È solo che lui adesso con lo Stregone ci fa un sacco di danno! Meno male che se n'è andato il Wavemaster, raga! Eh, il Pescatore sta a prendere grossi danni, però questa mi sa che non ce la portiamo a casa! Il deck workava decisamente meglio con la Strega! Forse perché la Strega è veramente devastante! Veramente fortissima la Strega, raga! Veramente, veramente fortissima! Comunque, anche per questo sto ancora giocando nelle derancate, quindi in quelle dove non ci sono le coppie, eccetera! Provo perché in realtà devo ancora capire come sfruttare al massimo questa strategia del Pescatore! Eh, lo Stregone lo lascio qui! Il problema, ragazzi, è che lui con lo Stregone ci fa tanto danno perché ci prende a splash tantissime truppe! Vediamo un attimino se così abbiamo risolto il problema, ma non credo! Ok, eh, raga, non credo che contro Shield Maiden li giù riescano a fare qualcosa il Pescatore e il Cavaliere! Soprattutto perché è aiutato dal Minatore! Eh, ragazzi, purtroppo no, purtroppo no! Eh, raga, oddio, il Pescatore non mi sta facendo impazzire perché anche con la seconda abilità... Eh... Boh, forse dovrei cambiare deck! Però, raga, col Pescatore ci vedo bene lo Shield Maiden, proprio paradossalmente! Cioè, tu ti vai a prendere una truppa, te la porti nella tua zona di competenza, diciamo così, e vai sostanzialmente a distruggere la sua truppa! Io l'unica cosa che posso fare è crearmi così un fortino di truppe, mettere tutti qui, gli vado a prendere la truppa sua là sopra e non lo so, non lo so, ragazzi! È l'unica cosa che mi viene in mente, togliere lo Stregone e provare a farlo... Ma che è successo? Però attenzione perché il mio Wave Master se ne è tornato vittorioso, eh! Attenzione! Eh, però, ragazzo, il Shield Maiden è fortissimo, guardate pure il suo Barbaro, anche se c'è solo una stella! Oh mio Dio, raga, che cosa è successo? Incredibile, raga! Oddio, Pescatore contro Pescatore! Troppo divertente da vedere, ragazzi! Troppo divertente da vedere, va bene! Detto questo, io provo a fare una cosa del genere e rimetto di nuovo tutte le truppe vicine e potenzio, ragazzi, soltanto queste truppe qui, tipo, appunto, Cavaliere e questa... Ah, però, no, raga, è vero, non posso più potenziarle! E, raga, vabbè, metto un'arcere qui così, goliardica! Un'arceressa lì goliardica, ma... Dipende da quello che succede! Shield Maiden è presto! No, raga, vabbè, è troppo divertente sta cosa! Sta cosa è troppo divertente! In sezione abbiamo l'arcere in vita, che potrebbe fare parecchio danno in giro per la mappa! Il Wavemaster, ragazzi, è incredibile! Vabbè, raga, ma è incredibile! È troppo forte! È troppo, troppo, troppo forte, ragazzi, il Wavemaster! Ma di che stiamo parlando? Guarda, lo mo' di nuovo, boom! È devastante quando prende tantissime truppe, raga! Ha carriato! Cioè, c'è poco da dire, ha veramente carriato! Ragazzi, doppia vittoria! Mi raccomando, scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate! Penso che, prima che vadano a nerfare queste carte, questi eroi, li andrò ad utilizzare nelle trancate! Quindi, magari, nei prossimi episodi faremo delle partite dove cercherò di fare coppe e quant'altro! Vi ricordo di lasciare un bel mi piace per supportare Clash Mini! Iscrivetevi al canale se è ancora stato fatto! Vi ricordo il codice creatore GGYT in tutti i giochi Supercell, tranne che su Clash Mini, perché attualmente non è ancora disponibile il codice creatore, proprio perché il gioco non è stato ancora lanciato globalmente! Per me è tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale! Ciao ragazzi!